perché insomma deve essere vista per crederci questa è una live ho trovato una live di quelle dei creator non so come si chiamano è un no commentary quindi ce la godiamo tutti insieme la commentiamo noi visto che è un no commentary questo creator l'ho trovata un no commentary di uno di quei creator che partecipa al suo programma la EA eccolo qua non perdonerò mai per avermi rovinato i cunari non lo perdonerò mai io per fortuna io non so se lo avvierò mai seriamente Dragon Age Origin mi gioco solo Origin e basta lascio perdere i successivi pure Gabbè del mio pensiero perché già in Inquisition facevano un po' schifo poi qua li hanno praticamente distrutti, non sono più i cunari cioè sono non sono più i cunari di una volta non sono più i cunari di una volta esatto i cunari di una volta sono dei cornutacci no ho sbagliato chiedo bene ma che state vedendo che stai non mettere non attivare il link che non devi Luca no no non ci sono i tuoi link porno vai tranquillo sì sì niente tette cioè vabbè in questo caso va bene trovo nonno nonno è corretto per introdurre l'argomento bravo non le tettone appese come piacciono a me cioè per esempio io tipo ho le tette appese sono delle tette che non si trovano nei videogiochi dovrebbero metterle in teoria le donne si vergognano di quel tipo di tette ma noi maschi non ci facciamo problemi se sono un po' calanti non è un problema per gli uomini è le donne che si fanno il problema quindi nei videogiochi se le introducono noi siamo pure felici però dopo la lunghezza del pene in cyberpunk quanto pare alla director di Dragon Age questo nuovo Vanguard a quanto pare le tette non gli piacciono non le piacciono quindi ha ben deciso di far sì che il suo team quindi è totalmente inclusivo cioè per dire inclusione no non è inclusivo non è assolutamente inclusivo perché se sei una donna formosa e vuoi riprodurti nel gioco non puoi farti tettosa o altro soprattutto e se sei un maschio che gli piace guardare le tette non le puoi guardare non puoi crearti cioè se uno vuole crearsi la sua donna ideale o il suo uomo ideale si potrebbe dire che è misogino questo gioco da questo punto di vista stranamente stranamente sì è stranamente incredibile lo dici da parte di persone che è poco inclusivo sì è poco inclusivo nei confronti della donna cioè puoi crearti la donna ma con i suoi limiti così come ti è poco inclusivo in tutto a parte che questi qua sembrano usciti da Vogue dai da quei cacchio meno che ne so quelle cavolo sembra Jared Leto quando deve fare le foto i servizi fotografici ma non ne puoi fare uno brutto ma è un chad che cazzo di così vita cioè io voglio uno che abbia una mia faccione come la mia dai non posso fare con ciotte ciotte questo è un chaddone cioè un super mega chad puoi fare solo cioè serve solo per far emozionare cioè mi fa mi fa rimpiangere Fable Fable potevi farti brutto non cambia niente scusa questo sta manipolando non cambia un cazzo no a parte naturalmente avere un cioè vedi il taglio degli occhi è quello eh non cambia niente cioè io non sto cambiando non sto vedendo sta cambiando niente no sai perché non vedi niente perché lo scemo di guerra che ha creato sto sistema si è dimenticato di mettere immobile il personaggio mentre tu lo crei quindi di conseguenza il personaggio si muove costantemente e tu non hai la percezione di ciò che stai toccando è un errore è stupido eh no però ora mi sta modificando le orecchie si sono abbassate i due millimetri cioè si si ha deciso che il personaggio deve essere così ti sta prendendo per il culo deve essere così eh si che poi tra l'altro in molti sono soffermati sulla qualità dei capelli cioè rendiamoci conto dei capelli devi stare a pettinare le doppie punte infatti devi mica starti a pettinare non è mica barbie sì è quello non puoi fare manco cecciona cioè non puoi fare cecciona stavi dicendo Luca stavo scherzando no stavo dicendo appunto quello che gli stanno talmente cioè c'ha talmente punti negativi che i punti positivi li stanno enfatizzando sulle cazzate come ad esempio i capelli cioè ci sono delle clip di IGN USA che fanno vedere sti cazzo di capelli che si muovono da dio ma c'era anche in Tomb Raider nel primo Tomb Raider vabbè pure in Final Fantasy là che c'era la tecnologia in video no no nel primo Tomb Raider c'era la tecnologia di AMD applicata sui capelli ed era qualcosa di avveneristico nel 2010 questi hanno ripreso più o meno la tecnologia analoga riproponendola per Dragon Age ma non è niente che io non abbia mai visto se voi andate a vedere Tomb Raider del 2010 è quello hai voglia come era 2013 non mi ricordo più no ormai l'acqua e i capelli sono stra sono stra standard sì sì solo che qui sono belli i capelli ti assicuro li ho visti recentemente sono belli pure i capelli no ora la cosa carina è la pelle cioè il fatto che la luce attraversa la pelle non so come si chiama tecnicamente quello è una cosa avanzata oggigiorno che è difficile serve il ray tracing perché ti servono le tecnologie RTX o RX comunque non puoi cambiare un cazzo nel senso solo i capelli è meglio il taglio dei capelli lo puoi cambiare io non sto facendo modifiche questo è sempre il ciaddone di prima la ciaddone non capisco il maschio addone però sembra sì sembra un di quei personaggi quei modelli androgeni buonazzi sì a me questo mi ha stupito perché vedi io in tutti i gameplay che ho visto non ho visto personaggi diversificati ne manco uno e incredibilmente se voi andate a vedere Dragon Age Origins c'erano dei personaggi diversi capito c'è nel lontano 2008 che era 2008 sì andatevela a vedere c'è n'editor meglio di questo sto per di e voglio cioè potevi farti nasone potevi farti cioè non ho capito che è successo perché questo problema ve lo dico nasce da Inquisition da Inquisition è cominciata questa cosa qui dei personaggi bello comunque posso dire che questo tizio non lo sta usando tantissimo cioè sta toccando molto poco da quello che ho visto un attimo ha saltato tutta una serie di settaggi no però prima ha smanettato parecchio prima si ha smanettato sì prima prima adesso ha saltato tutta una schermata e si staranno rubendo il cazzo sì ma ciò di sì infatti cioè l'editor americano diciamo che io prima di buttare questo sguardo da modello perso nel vuoto prima di dire se è veramente pesce o meno io lo darei in pasta a Barbara perché Barbara con gli editor ci passa anche due tre ore e allora dopo che ci ha passato due tre ore aspetto che mi dà un risponso e se Barbara dice fa cagare allora le credo al cento per cento non c'è neanche bisogno di vedere se fanno la solita cosa che fanno uscire prima il creator tipo Dragon's Dogma eh esatto Barbara con Dragon's Dogma ha creato una roba incredibile cioè il personaggio di Barbara sembra uscito da una cinematica di Capcom per quanto è fatto bene quello mio bello che mi hanno preso per culo che ti dicevano che sembrava un trapper invece qua non te lo so dire che è brutto Marco 2 che è fatto è tossico questo sì questo è un po' tossico sì è un universo strano di Dragon Age cioè che esiste io guarda sarei tentato di rimettere io guardate volevo farla pure io sta cosa volevo rimettere volevo mettere quel gameplay rimettere quella bel trailer del primo Dragon Age con Merlin Manson per farvi ricordare cosa era Dragon Age e invece ci dobbiamo aspettate un attimo se sospiri Barb cioè se parli sussurrando ti si sente comunque perché il microfono è buono c'è la testa piatta c'è la testa piatta mettiti le cuffie almeno così se fosse parli quando loro stanno in silenzio due secondi allora prima parlava quando avevo le cuffiette e voleva parlare adesso che c'avevo il microfono mette le cuffie almeno il colore dei capelli te lo puoi fare lgbt come piace a me che io me lo faccio con i capelli fucsia me lo faccio almeno io faccio sempre cioè se faccio il personaggio femminile faccio con i capelli viola scuro perché non mi finirò mai di voi due perché io diffido di chi ha capelli colorati ricordate viola con sfumature nere io me lo faccio o verde io faccio da rave verde fucsia o verde acido fucsia o fucsia verde acido se mi permetto no io credo che ho lo stile punk Barbara dice che faccio tutti i miei personaggi punkettosi quindi tecnicamente ho dentro uno spirito punk che esce fuori quando creo personaggi ah quindi ti ascolti i clash i ramones no ho detto che esce fuori quando creo personaggi poi per la musica io sono pop no luisa ascolta i Tokyo Hotel no 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 io ascolto i pinguini tattici nucleari adesso è peggio ancora io 883 sono diventati talmente sono diventati talmente melenzi che mamma mia a me non dispiace se no io 883 adesso Max Pezzani Max Pezzani un po' meno da sua lista perché non mi fa impazzire ma no a te ti piace proprio quella roba romantica ecco pure ancora peggio vai e Eugenio Vidi Gioia sono decente e Eugenio Vidi Gioia io ogni tanto li ascolto ma solo quando Barbara non c'è perché non le piace quando me cantano quindi li ascolto per conto mio giovani illuminati come si finiva a parlare di Eugenio Vidi Gioia perché ci stiamo rompendo il cazzo a guardare questo tutorial che questo sta sociaddone cioè non riesce manca a bruttirlo con i tatuaggi quanto è buono il personaggio no io comunque scommetto Barbara vi fa certa roba assurda con questo creator questo qui non lo sto usando è palese io vorrei vedere Barbara col creator di Demon's Soul lì puoi fare parecchie pure là cioè Barbara riusci a fare qualcosa di decente anche col creator di Dark Souls 3 cioè ho detto tutto la classe è l'acqua ma altronde io finalmente ho scoperto che a Dark Souls effettivamente serve perché il gioco va giocato in mutande ma lo insegniamo nella scorsa live mi hanno insegnato che va giocato in mutande è più facile giocarle meglio che tanto non serve a niente l'armatura in quel gioco se praticamente ti stammazzano posso mandarlo un po' avanti vediamo sì dai perché veramente qua mi sto rompendo allora qui ancora sta a vedere i tatuaggi ma basta hai praticamente ignorato tutto l'aspetto estetico e molti fermi sui tatuaggi sì ma quando mai un'azienda ma quando mai un'azienda si è mai concentrata così tanto sull'editor al massimo metti la demo e basta fine è buono che cazzo mi fai vedere altri tatuaggi ma non l'ha nemmeno applicati al corpo alla fine brutto ha passato un quarto d'ora sui tatuaggi senza metterne uno niente abbiamo beccato un gameplay stupido che non riusciamo a vedere le tette che non ci sono allora io voglio capire io dico questo editor sarà buono se le persone riusciranno a fare Voldemort no ragazzi allora ha passato 20 minuti nell'editor per lasciare il personaggio standard toccandolo tipo appena appena con le orecchie e con gli occhi che non si sa neanche che cavolo ha combinato per lasciare lo stesso taglio di capelli lasciare quasi lo stesso fisico ha passato 10 minuti nei tatuaggi per sceglierne poi questo che faceva pandan con la faccia se ferma un attimo ferma 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 fai vedere questo personaggio così passami Barbara un attimo Barbara vieni vicino credo che vogliono sapere la tua volete sapere quella di Barbara di opinione allora prima gli dico una cosa ma non ti sente perché non si è messa le cuffie però dimmi in caso vi faccio io credo che questo personaggio c'è qualcosa di strano tra le spalle c'è qualcosa di strano alle spalle mi sembrano troppo più grande rispetto alla testa praticamente non lo dice che è sproporzionato c'è qualcosa di strano alle spalle più d'altro non è il collo è un ufo è vero non è il collo brava è un ufo quindi ha fatto pure male personaggi ma io mi domando perché hanno usato il brand Dragon Age ci potevano chiamare in altro modo il gioco potevano chiamarlo il mio gruppo androgino ve ne so qualcosa dedicato no ma secondo me poteva essere tranquillamente un franchise dove puntavano più sull'action e meno sul gdr che magari affronti draghi e basta c'era la simile utile con Dragon Age oppure poteva essere tranquillamente uno spin off tipo pubblicavi uno spin off invece di essere a 60 70 euro lo buttavi a 40 ma lo chiami che ne so ciccio pasticcio e Dragon Age story esatto come hanno fatto con Star Wars Squadron se tu ci pensi è quello che hanno fatto con quello hanno detto mettiamo un gioco dove voi combattete con le astronavi e vi divertite con quelle e ciccio che poi l'unico problema di quel gioco è che parlano troppo a parer mio c'è c'è talmente tanta chiacchiera però funzionava per quello che doveva essere doveva fare la stessa cosa qua infatti sai che ti dico c'hai ragione su questa cosa anche perché quanto ho capito le classi le state vedendo che classi queste qui sono i back story vorrei vedere questo sarebbero importanti ma tanto faranno schifo pure queste le classi stavano indietro aspetta le classi c'è il bardo no ma che bardo sono queste tre sono su fa vedere warrior che c'ha guardiero guardiero ladro e mago sono queste tre solite sono quelle tre cioè praticamente hanno copiato c'è l'unico difetto forse dei titoli spider che hanno solo tre classi è vero che tra l'altro non c'è differenza tra il rogue e il warrior quindi sì in effetti quando ho scelto addirittura non c'è un mago c'è il mago penso c'è la sì c'è il mago sì sì c'è il mago eccolo la mago che ovviamente non c'è l'healer come healer cioè ogni personaggio ha un'abilità che ti cura ma se tu che devi chiedere agli npc di curarti a paperino no peggio perché a paperino c'era il sistema tipo gli davi gli ordini e lui poi ti curava automaticamente in modo genuino qui peggio c'è da dire una cosa però che in effetti da quello che avevo sentito che aveva detto penrir e che questo team non ha molta esperienza penrir o penrir vabbè decidi tu quello ti sembra più inclusivo tanto siamo guarda che fenrir è molto anti sta roba l'ha distrutto sto gioco sì infatti stavo cercando di dire prima che tu mi cacassi il cazzo ho capito dici pen pensiamo un'altra cosa vediamo la faccia di fenrir pensiamo pen ho capito che vi è rimasta l'esperienza di splittered in testa però cazzo andiamo andate avanti figli miei mi sono rimasti quei mostri in testa lì comunque no a parte gli scherzi il problema è che qui manca il pene dopo cyberpunk io per me dovrò metterlo ovunque il pene vabbè l'hanno messo pure in baldur's gate eh infatti appunto tre tra l'altro baldur's gate è inclusivo al cento per cento e voglio tutto eppure non mi sembra che ci siano limiti che si sono autoimposti in questi di dragon age si barbolo puoi fare di tutto di dimensioni sarebbe la mia ship memorabile con fenrir cos'è stavo dicendo fenrir ha detto praticamente che questa cosa secondo me è vera si vede che essenzialmente questo è un team di sviluppo molto giovane che non ha esperienza e che avrebbero dovuto in effetti mettere qualcuno che a capo che avesse un po' più di esperienza io sono mesi che lo dico da quando è uscito il nome della director sono mesi non faccio battute io basta che se no ci becchiamo la diffamazione li hanno presi da qualche accademia non faccio nomi anche qua eppure qualche accademia italica del nord Italia probabilmente sì perché cioè in teoria io all'epoca io mi ero iscritto alla Vancouver Film School che era una signor scuola dove assumevano da lì per i EA per lo più finivi a lavorare tra cui Bioware finivi a lavorare che brutta fine quindi può essere o la che la Vancouver Film School fa schifo oppure semplicemente hanno cambiato scuola da dove assumono vabbè su quello che è successo in America ormai saranno più attenti a chi non offendere che ad insegnare quindi figurati comunque avevo sentito questo secondo me è vero sì si la voglia queste di Inquisition sono i disegni sì sì eh sai come qualche scarabocchio lo avranno tenuto eh le uniche cose belle di Inquisition a mio modo di vedere ma comunque comunque guarda cioè ma secondo te potevamo prendere per avere un video dove un tizio nel momento in cui deve prendere l'Inquisitore e modificarlo chi app va avanti ma chi è che sta facendo questa build cioè chi è che la sta provando non lo so un partner di me mi sono voluto fidare Game Riot si chiama ho selezionato quelli dei partner eh vabbè scusate io mi vado a rivedere un attimo il trailer con Merlin Menzo contro il Merlin Menzo devo ricordarmi eh gira lo giro che ce lo vediamo insieme no perché io ti giuro ogni volta quando dico ogni volta quando penso a Dragon Age lo trovo subito tanto se non ci metto niente no comunque sì questo gioco sviluppa gente con poca esperienza in ogni ambito cioè dalla director che ha fatto mi pare di fino a The Sims eccolo ve lo metto su Telegram avrei preferito vedere un gioco con un minor budget fatto sempre da ste persone tanto per fargli fare la gavetta ma infatti il problema è che sta finendo come a Hollywood che danno i film a dell'incapace cioè se avete presenza che a Hollywood il Marvel Cinematic Universe questo ha fatto un cortometraggio e li danno che ne so non so tipo in the game mi mano non so